Navigare in Internet è un po' come andare a caccia di tesori. Possiamo trovare delle gemme preziose, ma anche capitare in acque insidiose. Per capire se il contenuto di un sito web è attendibile, dobbiamo farci alcune domande. Chiediamoci prima di tutto chi è il responsabile del contenuto pubblicato sul sito. Di solito, possiamo trovare quest'informazione alla voce about us, oppure about this site, o chi siamo. In ambito biomedico si trovano molti siti pubblicati da singoli professionisti. Possono fornire supporto e consigli su come affrontare certe condizioni patologiche e sui trattamenti correlati. A volte però si basano su notizie prive di evidenze o non aggiornate. Dobbiamo verificare i dati con quelli riportati da altre fonti. In genere, sono più affidabili i siti curati da organizzazioni e società scientifiche. Se un'organizzazione è autorevole, il suo sito può sicuramente essere considerato attendibile. I responsabili dei siti si possono riconoscere anche dagli indirizzi web, in particolare dal dominio, per intenderci le ultime lettere dopo il punto. Ad esempio, nei siti americani, .gov identifica le organizzazioni governative, .edu i siti di università, .org quelli di organizzazioni no profit. Questi siti, non legati a scopi commerciali, sono da considerare i più sicuri. .com, invece, identifica i siti di organizzazioni commerciali. Non è detto che siano poco autorevoli. Dobbiamo però essere più cauti e verificare con altre fonti l'informazione recuperata. Attenzione! Se l'obiettivo è venderci dei prodotti, l'informazione potrebbe essere distorta. Chiediamoci anche se i responsabili del sito si possono contattare. Non fidiamoci di chi ci permette di contattare solo il webmaster. Fidiamoci solo di chi ci mette a disposizione indirizzi e-mail o numeri di telefono. Da dove proviene l'informazione? Molti siti medico-sanitari propongono informazioni che provengono da altre fonti. L'origine di ogni informazione deve essere chiaramente riportata, meglio se la fonte è una pubblicazione scientifica accreditata. Non fidatevi di affermazioni troppo generiche, come studi recenti o numerosi studi. Le fonti devono essere citate in modo preciso e dettagliato. Le informazioni sono scritte o verificate da esperti della materia. Cerchiamo se c'è una redazione e controlliamo i titoli professionali di chi ne fa parte. Chiediamoci anche se l'informazione fornita è aggiornata. L'aggiornamento del sito è fondamentale. Molti indicano la data dell'ultima modifica o dell'ultima revisione delle loro pagine, solitamente in fondo alla pagina. Se la pagina non è stata aggiornata di recente, le fonti citate non sono aggiornate o mancano le informazioni sull'aggiornamento, non ci possiamo fidare. A chi si rivolge il sito? Un sito medico-sanitario deve indicare chiaramente se si rivolge al professionista o al paziente. Molti siti hanno due aree distinte per consumatori e professionisti. Il design del sito deve rendere evidente la suddivisione. Chi paga per il mantenimento del sito? Sono dichiarate sponsorizzazioni e possibili conflitti di interesse? Se ci sono pubblicità, sono ben distinte dalle altre informazioni? Meglio non fidarsi troppo dei siti dove la pubblicità prevale sul contenuto informativo. Rivediamo ora le nostre domande per la valutazione dei siti. Possiamo utilizzare questa checklist. Chi è responsabile del contenuto pubblicato nel sito? Si può contattare? Da dove proviene l'informazione fornita? Le fonti sono citate? I contenuti sono prodotti o rivisti da esperti della materia? Ci sono affermazioni sensazionali o poco credibili? A chi si rivolge il sito? Al professionista o al paziente? Gli obiettivi sono dichiarati? È aggiornata l'informazione fornita? Da dove provengono i fondi? Se ci sono pubblicità, sono etichettate come tali? Sono dichiarate sponsorizzazioni e possibili conflitti di interessi? Il sito chiede informazioni personali? È dichiarato l'uso che intendono farne? In rete si trovano diversi strumenti che ci aiutano e ci guidano nella valutazione dei siti. Ad esempio, il tutorial prodotto dalla National Library of Medicine, da cui è tratta la checklist che abbiamo appena visto insieme. Il misura-siti di partecipa-salute e lo strumento Trusted or Trashit della statunitense Genetic Alliance. Infine, esiste il Lone Code, un bollino che potete trovare su alcuni siti biomedici e che certifica l'aderenza del sito a un codice di autoregolamentazione proposto dall'organizzazione no profit Health on the Net. La presenza del Lone Code è garanzia della serietà del sito. La validità del Lone Code si può verificare cliccandoci sopra. I principi del Lone Code corrispondono più o meno alle domande che ci hanno fatto da guida fin qui e prevedono che gli autori siano qualificati, che le informazioni non si sostituiscano al rapporto diretto medico-paziente, che la privacy degli utenti sia rispettata, che le fonti siano chiaramente citate, che le offermazioni siano obiettive e giustificate, che siano forniti contatti e informazioni sul finanziamento del sito, che le pubblicità siano chiaramente etichettate come tali. Attenzione, anche se lone code non è presente su un sito, non significa automaticamente che non si possa considerare attendibile. Solitamente i siti governativi o di associazioni di enti di per sé attendibili non hanno bisogno di richiedere questo tipo di certificazione. Un esempio per tutti, il sito IS Salute dell'Istituto Superiore di Sanità, nato proprio con l'intento di fornire al cittadino un'informazione medica di qualità, sfatare falsi miti e smascherare bufale.